L'Italia da sempre è uno dei paesi più invidiati dal mondo intero, detentore di bellezze artistiche, naturali, storiche ed enogastronomiche. L'Italia fa gola e sono tanti gli imprenditori sparsi nel mondo che farebbero carte false per portare via pezzi del bel paese. Un'idea questa accattivante per uno sviluppo economico dell'Italia, idea non più astratta ma che oggi è diventato un vero progetto economico, creato dal presidente di ConfImprese Nord-Ovest Carmine Gelli e che è arrivato anche in Molise, progetto nato in collaborazione con lo Stato cinese e non con enti privati. Si tratta di un progetto ideato dal dottor Gelli che è l'ideatore e l'animatore di questo progetto che è stato fatto dalla ConfImprese Nord-Ovest italiana che ha sede a Torino e il governo della della città di Hangzhou e Shanghai. Insomma c'è un progetto iniziale che poi sarà sviluppato in altre 23 regioni o distretti cinesi. In questo parco che ha un'estensione di quasi 26 chilometri quadrati ci saranno eccellenze provenienti dall'Italia. Quindi il Molise è stato scelto come altre regioni ma all'interno del Molise ci sarà la possibilità solo per aziende eccellenti come quella in cui siamo in questo momento. In Molise sono già 16 le aziende che hanno deciso di partecipare al progetto e che avranno la possibilità quindi di vendere, produrre ed esporre i propri prodotti all'estero. Le Camere di Commercio di Serni e Campobasso hanno capito l'importanza di questo progetto come l'ha capito la regione perché il delegato alla programmazione, il consigliere Cotugno, delegato al presidente Frattura, ha riportato il tutto al presidente, alla giunta perché è un'occasione da non perdere per queste eccellenze molisane che possano entrare nel mercato più importante al mondo che è quello cinese. Sarà quindi la Cina ad acquistare i nostri brand, dal food all'artigianato, dall'alta moda all'innovazione fino all'arte. In tutta la Cina saranno creati 22 parchi delle eccellenze dove troveranno spazio i migliori prodotti italiani. Cerchiamo di dare alle nostre aziende italiane la possibilità di esportare. Questo progetto dà la possibilità a tutti perché è una vetrina, non si parla né di fiere, non si parla di un evento spot ma di un'esposizione, di una vetrina per ognuno permanente che dà l'opportunità di vendere ai buyer, alle grosse attività cinesi. Una delegazione cinese in queste ore è in Molise per conoscere alcune delle aziende che hanno deciso di partecipare. I prodotti italiani sono molto famosi in Cina, quindi anche questa vuota è proprio per questo motivo, siamo anduti qua. Stamattina siamo anduti, abbiamo visitato tutte le fabbriche e poi alla fine siamo arrivati qua e poi abbiamo fatto una visita per questa fabbrica e poi ci interessa tantissimo. Chi fosse interessato all'iniziativa può trovare le informazioni sul sito internet www.parcoeccellenzeitaliane.com. www.parcoeccellenzeitaliane.com.